. Emily Ratajkowski, il tacco è d'obbligo, anche con la tuta Infilarsi una tuta, quasi nella totalità delle casistiche, significa abbinare un bel paio di comode scarpe da ginnastica, ma non per Emily Ratajkowski, per lei, i tacchi sono perfetti anche per uno outfit casual. . E non è l'unica ad apprezzare questo look a contrasto, sono tante le VIP che vengono paparazzate in tuta e tacco 12. Emily Ratajkowski sempre super sexy, anche con la tuta porta i tacchi. . . Un paio di mesi fa, Emily Ratajkowski è stata fotografata per le strade di Los Angeles in un look piuttosto particolare, toppe e pantaloni della tuta coordinati a un appariscente paio di stivaletti bianco ottico, con un tacco super vertiginoso. . Un nuovo trend si sta diffondendo tra le VIP? A quanto pare sembra proprio di sì, visto che la bellissima modella americana non è l'unica a uscire di casa in casual look e scarpe tresp-ship. . . Parlando della splendida 26enne, dobbiamo dirlo, qualsiasi cosa indossi la sua sensualità è sempre più che spiccata vista la sua meravigliosa e giunonica silhouette. . Negli scatti in sporty outfit, Emily indossa un completo spezzato da palestra, composto da top a maniche corte grigio chiaro e gimpants total black, con elastico in vita e cordoncino accuratamente annodato. . . In queste vesti, nessuno avrebbe trovato strano vedere ai piedi della top model e classiche sneakers che amiamo un po' tutti, flat e super confortevoli soprattutto in caso di attività fisica o anche solo per lunghe passeggiate in città. . . Ma Emily no, decide che anche con questa allure sportiva anche se non meno sexy è giusto abbinare tacchi vertiginosi, che creino quel giusto contrasto tanto in voga tra le star al momento. . . Chi le tiene compagnia? . Vip di un certo livello, dobbiamo dire, ecco Kim Kardashian che, anche mentre fa la super mamma bis e presto tris visto le recenti notizie non rinuncia ad essere la splendida influencer più in al mondo e ma più alta di circa 12 cm. . 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 Contestato da questo modo di indossare i tacchi, anche Courtney a body e pantaloni color panna abbina un paio di altissimi sandali rosso acceso. Infine, entriamo nel mondo delle cantanti con la grande Rita Ora, che sfoggia maglietta e pantaloni sportivi giallo canarino. Ai piedi? Un paio di decoltè nere che slanciano ancora di più la sua elegante ed esuberante figura. Emilia Taikovski splendida con ogni tipo di outfit. I fan della sensualissima Emilia Taikovski sanno perfettamente che la loro beniamina non delude mai, qualsiasi sia loutfit che lei indossi nei vari contesti in cui viene immortalata da un fotografo. In caso di momenti privati o di passeggiate tranquille per la città, sfoggia spesso un look sportivo, ma pur sempre con tacchi altissimi, i prediletti dalla 26enne. I famosi stivaletti bianchi in questione, poi, sembrano proprio i suoi preferiti, Emrata, infatti, li aveva sfoggiati anche di recente, in uno scatto dove esibiva uno splendido completo scozzese dai colori aranciati dell'autunno. Poliedrica, sexy, versatile, ecco com'è Lara Taikovski, sempre perfetta e pronta a far girare la testa ai fan. .